Il tecnico Marco Baroni ci crede così come ci crede la sua squadra. La Virtus Lanciano si può giocare nelle prossime due gare. La possibilità di accedere agli spareggi promozione. Il traguardo è infatti ancora raggiungibile malgrado i risultati dei posticipi della quarantesima giornata del campionato cadetto siano stati sfavorevoli per i colori rossoneri. Il Bari infatti ha sconfitto di misura il Cittadella. Il Siena ha superato in casa Latina per 3-0. Insidiosa la trasferta emiliana contro un Carpi che a quota 55 punti ha ancora teoricamente qualche chance di aggiudicarsi gli spareggi promozione. Intanto la squadra continua a lavorare per affrontare nella migliore condizione possibile i prossimi 180 minuti. Al Memmo, classici esercizi di riscaldamento e Torello all'inizio. Successivamente sono state provate alcune situazioni di gioco ed infine tattica con partitella finale. Per quanto riguarda l'infermeria arrivano ottime notizie. Ha recuperati Ferrario, Troeste e Germano, anche se ancora da valutare il loro utilizzo per la trasferta a Carpi, così come Germano e Turchi. Nel Carpi, lo ricordiamo, mancherà il difensore legato. Nella consueta conferenza stampa di metà settimana, il tecnico Baroni si è presentato con un foglio riepilogativo dell'annata che ormai sta avvolgendo al termine. Dati oggettivi e non soggettivi, quelli riportati, con un confronto sui punti ottenuti rispetto alla stagione precedente. La composizione della rosa con la provenienza dei singoli calciatori. Ci eravamo creati un obiettivo minimo da raggiungere, perché senza quelli sarebbe stato anche difficile raggiungere la quota di 63 punti. Adesso siamo in grado di fare 64, perché siamo nelle condizioni di aver fatto un più uno, nella mia tabella. Quindi andiamo a giocare le nostre chance, con convinzione, con coraggio, senza paura. La cosa importante in questo momento è non pensare di non farcela. Stagione strepitosa comunque quella del tecnico Frentano, che potrebbe chiudere il campionato a quota 64 punti e far continuare a sognare i propri tifosi. Quindi io mi aspetto una squadra che giocherà una partita importante per finire in maniera importante, anche se loro non hanno nessuna più possibilità di entrare nei play-off, perché sarebbe assurdo, perché potrebbero non bastare 64 punti. Con 61 non ci si entra neppure se non si gioca più le ultime due partite. Grazie. 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 Grazie.